Ciao ragazzi e ragazze, non credevo sinceramente mi sarei dovuta ritrovare a fare un video del genere, ma evidentemente ce n'è bisogno. Questa è una cosa che io dico molto spesso, è una frase da un film che io cito molto spesso, ma evidentemente c'è necessità di portarla anche online, ufficialmente, sui miei canali. Le parole sono importanti. Punto. Le parole sono importanti perché quello che noi diciamo e il modo che abbiamo di esprimerlo è la forma del nostro pensiero. Le parole sono importanti perché sono lo specchio della confusione o dell'ordine che abbiamo in testa, sono importanti perché sono il modo in cui ci approcciamo agli altri e sono importanti perché nel momento in cui noi le usiamo con gli altri escono da noi e quindi siamo completamente responsabili di questo aspetto della comunicazione in uscita soprattutto, cioè anche, sui social media. Quando voi lasciate qualcosa di scritto nei commenti di qualcuno, e questo è un fenomeno che purtroppo sto cominciando a vedere anche su TikTok, che è un social estremamente inclusivo, beh, è importante pensare a come glielo state lasciando, a cosa state dicendo, a capire se state arrivando positivi, negativi, gentili, maleducati. Sono importanti, sono importanti, fine. Sono importanti ed è importante il modo in cui voi passate agli altri anche nel momento in cui non lo pensate, quando dovete parlare o scrivervi. Pensateci, pensateci due volte, la prossima volta. Stop whining. Stop whining.